... Sagra della ricotta e della provola dei Nebro di Amaniace, 29 e 30 aprile e 1 maggio. Un evento molto atteso dalla comunità, ma anche dalle persone dei comuni limitrofi che verranno per assistere a questa manifestazione dopo il Covid. Vediamo le immagini dell'inaugurazione dell'evento e sentiamo anche le interviste che abbiamo realizzato con i protagonisti, sia a livello istituzionale e politico, ma anche produttori. Sindaco, ci siamo, l'inaugurazione è andata con i bambini, con i colleghi sindaci del territorio limitrofo, quindi già una prima festa è andata, anche se saranno tre giorni molto intensi. Sì, abbiamo iniziato oggi in modo particolare con la scuola, che è molto importante, una bella manifestazione. Adesso si parte per far assaggiare i nostri prodotti, sia per quanto riguarda la ricotta e poi la provola dei Nebro di, e tanti altri prodotti. C'è la salsiccia, non dimentichiamo, il suino nero dei Nebro di, che è un prodotto anche tipico dei Nebro di. Io ringrazio il mio amico Francesco Scroi per i bei complimenti, ringrazio Katia, il sindaco di Cesarò, anche lei gentilissima nei miei confronti, di essere presente qua in queste zone. Io voglio sottolineare una cosa, si parla spesso fra noi sindaci, in modo particolare delle zone interne, che siamo stati dimenticati di lavorare e ci stiamo riuscendo. Faremo delle belle cose, io ne sono sicuro di questo, perché c'è una bella sintonia, siamo uniti e andiamo avanti a risolvere questi grossi problemi che permangono purtroppo sui monti Nebro di o nei paesi di montagna, dove tutti sappiamo che c'è un abbandono totale da parte dei giovani che vogliono andare via. Noi vogliamo fermare questo russo di giovani che se ne vanno. Oggi è il primo giorno, diciamo, c'è l'organizzazione in generale, si stanno organizzando tutti gli stand e così via. Domani si persegue e poi anche il primo maggio andiamo avanti a presentare i nostri prodotti. Speriamo che tanta gente ci venga a trovare e così possiamo fare una cosa utile per il mio paese e utile anche per le persone che ci vengono a visitare. Stiamo aspettando che arrivano proprio in piazza, oggi è il primo giorno e per essere il primo giorno già abbiamo un ottimo risultato. Già si vedono pullman, già parcheggiati qua nelle nostre zone e tante telefonate. È chiaro che c'è il momento di partenza che dopo i due anni di fermo, chiaramente le persone quasi quasi ci troviamo un pochettino in difficoltà perché non ci immaginavamo che c'era questa buona richiesta e questi tanti bei prodotti tipici locali. Finalmente dopo i due anni siamo usciti da questa pandemia e stiamo iniziando a fare un percorso nuovo. Stiamo iniziando con la saga della ricotta e della provola, speriamo che va tutto bene. Invitiamo tutte le persone di fuori di partecipare a questa saga perché Magnacio è un paese di agricoltura. Ci aspettiamo un boom di persone in questi tre giorni, sabato, domenica 29, 30 aprile 1 maggio, data la presenza comunque di tantissime persone. Faremo vivere ai bambini comunque questa esperienza così da proiettarsi poi in un futuro e capire veramente cosa significa lavoro, stare a contatto con la gente, essere indipendenti e intraprendere nuove strade. Gisarò non poteva non essere presente a questo grande evento che valorizza il territorio, assegnatamente valorizza il territorio dei Nebrodi. Paesi che concentrano la loro economia sull'agricoltura e l'allevamento. Quindi noi amministrazioni abbiamo proprio il dovere di valorizzare il prodotto attraverso questi eventi. Non potevo non essere presente per due motivi. Primo per l'amicizia storica che mi lega con il sindaco di Maniaci e Franco Parasiliti e anche perché la provola dei Nebrodi nasce, guarda caso, nel 2019 con l'inaugurazione a Randazzo e la prima marchiatura della provola dei Nebrodi. È un territorio che si muove, è il territorio nebrodeo che si affaccia sul versante nord-est dell'Etna. Questo territorio, che è un territorio bellissimo, ha una sua specificità, ha delle sue tradizioni, gli allevamenti, gli allevamenti zootecnici e all'interno di questa agricoltura e zootecnia c'è una produzione di nicchia. E allora buongiorno, innanzitutto ben trovato, Sacra della Ricotta, andiamo a vedere un po' come viene prodotta, come si fa? Come si fa la ricotta? Si mette il latte dentro la guardara del ramo, si porta a 37-38 gradi, si mette il caglio, si fa diventare come cagliate, come un budino la cagliata, poi si spezza con questa, si roppe e diventa tuma. La tuma la mettiamo nella fucella, che sono quelle, diventerà formaggio, pepato fresco, come vuoi, con tempo, passano 60 giorni. E poi con la lacciata della tuma si fa la ricotta, che si chiama, in italiano, siero della tuma. Invece si è lacciata della tuma. Si aggiunge poi un po' di latte e sarà la ricotta. Quali emozioni, diciamo, vi accompagnano in questa giornata? Eh, sono tante, perché la Sacra è la prima volta dopo tre anni che si rifà a causa del Covid, quindi le emozioni sono tante, ma non solo per me, credo per tutto il popolo maniaceso. È una felicità, dopo anche tantissimi anni che non si faceva, oggi siamo qua che ci divertiamo e spero che tutti si divertono, tipo come noi.